Io vado a Bologna, lavoro all'ospedale Maggiore, per cui già per noi era un grosso sacrificio andare a lavorare in Emilia Romagna, con i vari ritardi che c'erano sui treni e tutti i disagi. Oggi ci rendono ancora più impossibile questo lavoro. Affrontiamo viaggi, come ho fatto io ieri mattina, di due ore e un quarto, due ore e dieci, attraversando i paesini, con tutti i rischi che ci sono, traffico. Ieri mattina abbiamo incontrato un trattore che comunque sia l'autobus ha rischiato anche per superare. Sono diretta a Bologna per dare un esame e effettivamente ho aspettato più di due ore, credo. Vengo da Pistoia, anche da Pistoia a Prato c'erano dei disagi. In strada può esserci il traffico, può esserci un incidente, quindi normalmente siamo più tranquilli a prendere il treno piuttosto che un autobus.